Nel mondo della calligrafia giapponese, si chiama Shouro, c'è un'immedibile ma cosciente continuità tra punti, linee e caratteri, chiamato I-Renna. Questa continuità nei gesti fa sì che i segni siano in perfetta armonia tra loro, nonostante sembrino divisi. Così I-Renna ha come spirito non solo la ricerca della bellezza e dell'essenzialità, ma soprattutto dell'intrinsica gestualità. Una scrivania che dà vita a nuovi scenari e rituali del lavorare e un rapporto di naturale fluidità tra il corpo e l'oggetto.